Il supporto al formato AMP HTML è attualmente in fase di rilascio per tutti gli utenti che hanno partecipato al programma preview di Outlook.com. Il nuovo formato permette di ottenere delle esperienze di email dinamiche con contenuti interattivi. I partecipanti al programma preview potranno interagire con i contenuti di alcuni mittenti attendibili senza dover navigare in altre pagine. Il formato supportando contenuti dinamici permette di mantenere sempre aggiornate le informazioni. La funzionalità sarà disponibile per gli utenti partecipanti al programma preview a partire da quest'estate. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web ufficiale.